Upas, trame fino al 29 dicembre 2023, Alberto vuole vendicarsi della sua ex. Nella puntata della telenovela Un posto al sole, che andrà in onda su Rai 3 dal 25 al 29 dicembre 2023, Clara ed Edoardo tornano a Napoli, e l'avvocato Alberto Paiadini torna dall'ex amante che gli ha regalato la sua fortuna e comincia a pensare alla vendetta. Palazzo Paiadini festeggia il Natale durante la fuga, Clara è sopraffatta dai dubbi. Ma decide di tornare in Italia e cerca di convincere Edoardo ad accompagnarla. Gli è stato portato via il figlio Federico. Dopo lunghe esitazioni, l'uomo accetta di tornare con lei a Napoli. Presto Damiano apprenderà da Rosa che è tornata e cercherà di convincere l'amico a costituirsi alla polizia. Poiché Alberto non sa di questo ritorno, sarà sempre più preoccupato per la lontananza dal figlio, soprattutto nel periodo natalizio. Esultando per la decisione di Raffaele di vestire otello da babbo natale, gli abitanti di Palazzo Paiadini saranno impegnati nelle festività natalizie. Viola e Damiano cercano di nascondere la loro relazione ai rispettivi figli. Nonostante tutti i loro sforzi, il piccolo Manuel si rese presto conto che c'era qualcosa tra loro e lo raccontò al suo amico Antonio. A differenza del figlio di Damiano, quest'ultimo non la prese affatto bene e cominciò a comportarsi in modo molto strano e fece anche molte domande a suo padre Eugenio a riguardo. Micaela ha avuto successo il radio, ma Eugenio non sapeva come rispondergli. Guido e Mariela invitano Luca all'ultimo minuto alla cena di Natale e diventano molto legati. Tuttavia, la malattia del medico ritorna improvvisamente e la situazione diventa ancora più triste. Nel frattempo, Mariela cercherà di capire perché Serena è così accessibile nei suoi confronti. Renato si dimentica di comprare un regalo per Otello durante il suo recente viaggio in Sicilia, quindi chiede aiuto a Raffaele per correggere l'errore. Intanto Micaela ottiene un enorme successo in radio grazie alle sue idee non convenzionali sulle vacanze di Natale, anche se a Filippo alcune cose che dice non piacciono. Nel frattempo la ragazza si scontra con Samuel poiché non ha intenzione di avere una relazione seria con lui. A questo punto il giovane chiede aiuto a Nunzio per trovare una soluzione. Alla fine, Edoardo finisce per ricattare Alberto poco prima che questi decida di arrendersi alla polizia. La chiave della discussione tra Alberto e Clara sul figlio Clara perderà la custodia del figlio Federico nelle prossime puntate? Alberto li coinvolgerà e potrà usare le sue conoscenze di avvocato per riavere suo figlio. Palladini infatti valuterà in tribunale se approfittare della fuga dell'ex amante con Edoardo? Nonostante questa possibilità, Alberto è ancora in grado di considerare le sue intenzioni di tutelare il benessere di suo figlio, già compromesso dai recenti cambiamenti. In tutto questo bisogna tenere conto anche dell'amore che Palladini prova ancora per Clara.